Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 17 del settimanale di Fano TV. Era un'alma che voleva arrivare alla finale playoff e la finale playoff l'ha conquistata, lo ha fatto a Roma battendo il Trastevere, squadra di indubbio valore che anche in questa sfida che ha consentito alla fine alla formazione Granata di accedere alla finale playoff, avversario Navigo Orsenigaglia ha dimostrato per intero le sue qualità e questo naturalmente accresce il valore della vittoria conquistata dalla squadra Granata. Di questo ma anche di altro parleremo con Usman Niang, centrocampista dell'Alma Juventus Fano, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie mille dell'invito. Nostro ospite stasera però anche Alberto Rondin, allenatore dell'Under 19 Granata, buonasera e benvenuto anche a lui. Buonasera. Ander 19 Granata che proprio nello stesso weekend in cui la prima squadra ha centrato questa vittoria a Roma ha battuto a sua volta il Bitonto nella prima gara del triangolare dei playoff del campionato di categoria. Cominciamo però da Roma, da questa gara con il Trastevere, l'Alma si è imposta proprio nei secondi finali grazie ad una splendida esecuzione di Serges, partita molto impegnativa perché l'impressione che si è avuta dall'esterno è che tutte e due le squadre ci tenevano a conquistare questo risultato. È l'impressione che avete avuto anche dal campo? Sì, 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 era una partita molto importante per tutte e due le squadre, ovviamente ringrazio lo staff e comunque la squadra che abbiamo fatto un'impresa perché andarla a vincere non è stato facile, però da gruppo, da squadra l'abbiamo portata a casa. Che non fosse facile lo dimostrano i due precedenti dell'anno scorso e di quest'anno, Roma campo difficile al di là delle qualità dell'avversario, un sintetico campo anche abbastanza stretto e comunque avete dato prova in quest'ultima occasione di esservi adattati al meglio. Sì, 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 è un campo difficile lì, comunque molto stretto, cioè comunque noi siamo abituati a giocare allo Stadio Bancini che è un campo in erba molto più grande, però dai comunque siamo riusciti a portarla a casa e questo è l'importante. L'episodio chiave, probabilmente o comunque uno degli episodi centrali della gara, l'espulsione che è stata combinata ai danni di Santo Vito poco dopo la mezz'ora, rivediamo le immagini, mi pare che ci sia poco da disquisire sul fatto che sia stato estratto il cartellino rosso, la gomitata non è per prendere posizione ma per colpire l'avversario, in questo senso chiedo conforto anche a Rondina, che di episodi simili magari mi ha vissuti. Sì, in effetti era un'espulsione diretta sacrosanta e ha fatto bene l'arbitro a estrarre il cartellino rosso. Nonostante però l'inferiorità numerica, il Trastevere, che è squadra molto tecnica, con giocatori anche di grande esperienza, ha continuato a tenere il campo e a cercare di governare la partita. Sì, loro sono una squadra molto forte, comunque giocano bene a calcio, la giravano molto bene, quindi nonostante il 10 contro 11 non si è fatto sentire da fuori, comunque sì, è una squadra molto importante per la categoria. Il fatto stesso che ci sia stato questo episodio che ha determinato un'espulsione, significa che in campo c'è stato anche un buonissimo livello agonistico, squadre che non si sono risparmiate neppure da questo punto di vista? Esatto, sì, è stata una partita a livello agonistico molto tosta, però sì, è stata una bella gara. Alma che nel finale del primo tempo ha provato a rendersi a sua volta pericolosa, dopo che era stato più che altro il Trastevere, a minacciare la porta granata, anche se di situazioni vere e proprie da gol nel primo tempo non se ne sono viste. La partita è in qualche modo deflagrata nella ripresa, stiamo per vedere il gol di Urbinati di testa, un po' dimenticato dalla retroguardia avversaria, ma Urbinati è stato molto lesto e molto efficace nel concludere di testa. Gol d'attaccante, Rondi, non è questo di Urbinati? Questo è un gol, sì, l'attaccante, ma l'inserimento di un difensore o di un centrocampista con le qualità di Urbinati è facile, diciamo, avere fisicità e entrare nell'area così. Poi un po' lasciato solo, come dicevi tu, ha sfruttato alla grande la bella palla messa dentro e bene così. Trastevere che però non è affatto uscito di partita, vi ha in qualche modo messo di nuovo sotto pressione, ha costruito altre situazioni, impegnato Bizzini in più di una circostanza. Forse in quel frangente lì potevate gestire un po' meglio la partita, magari mantenere più a lungo il controllo del pallone per evitare che il pallone ce ne avessero gli altri? Sì, sì, esatto. Potevamo magari gestirla un po' meglio, comunque girando di più la palla, però ci siamo difesi da grande squadra e diciamo che questo ci ha dato una mano nel portare il risultato a casa. Direi che complessivamente anche nel contesto di questa partita si è emersa, mentre comunque vediamo che Drolet nel momento in cui ha impattato la partita si è subito messo in evidenza. Dicevo che anche in questa partita comunque sono emersi i valori che il Fano ha espresso per tutto l'arco della stagione, grande compattezza, grande unità di intenti, grande spirito di sacrificio, voglia di collaborare. Esatto, sì, su questo siamo un gruppo molto forte, comunque il mister ci ha dato durante l'anno questa compattezza e comunque questa voglia di andare ad attaccare in avanti, di pressare in avanti, non lasciare nulla all'avversario, diciamo che questo ci ha aiutato molto. Abbiamo visto poco fa il gol del pari, un tiro da lunghissima distanza, credo più di 35 metri, la cui efficacia è stata determinata però fondamentalmente da una deviazione. Sì, 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 c'è stata una deviazione proprio dell'undici del trust ever, mi pare, sì. Che ha reso la parabola appunto imprendibile per Bizzini. E poi il grandissimo gol di Serges perché Rondina mi pare sia un tiro di quelli che riescono poche volte di prima intenzione con lo interno, lì dove il portiere non può arrivare. Eh ma Serges ce li ha questi colpi, ho avuto il piacere di allenarlo in primavera due anni fa e ci ha fatto diversi gol così, quindi ha sfruttato quelle che sono le sue caratteristiche ottimamente e c'è da fargli complimenti anche perché è un giovane di prospettiva, quindi un gran gol fatto da un bel giocatorino. Tra l'altro Serges che era stato lungamente impiegato nella prima parte della stagione ha trovato minori possibilità di mettersi in mostra in questa seconda parte del campionato e questo gol naturalmente gli darà grande fiducia in vista del futuro. Futuro prossimo che significa domenica, Vigor Senigallia in trasferta al Bianchelli, beh se l'Alma non ha mollato in questo finale di campionato non lo ha fatto certamente anche la Vigor che ha creduto fino all'ultimo addirittura nella promozione diretta e che si è fatta a trovare pronta anche nei play-off per chi ha battuto il Cinzia al Balonga che non è sicuramente avversario di secondo piano. Sì, sì, la Vigor è una squadra che quest'anno ha stupito diciamo la gran parte di tutti, sì sarà una bella partita comunque essendo che sia andata di ritorno loro sono riusciti a batterci quindi noi siamo molto avvelenati e vogliamo anche noi portarla a casa. Anche lì si giocherà sul sintetico, è davvero un vantaggio per chi tutta la settimana si allena su quel tipo di fondo? Sì, sì è un vantaggio però comunque dai passa in secondo piano, in campo ci va ben altro. Naturalmente ci si augura che l'alma possa essere sostenuta anche in questo appuntamento finale dai propri tifosi, Vigor Senigallia che anche Rondina magari ha avuto modo di apprezzare nell'arco di questa stagione, la sorpresa indiscussa del campionato, una squadra che sull'intelaiatura della formazione che ha vinto l'eccellenza ha saputo innestare gli uomini giusti e che Pineto a parte e a parte il finale di campionato del Pineto sia dimostrata la più continua e la più completa. Hai detto bene, secondo me non è tanto una sorpresa perché comunque la Vigor Senigallia sulle ali dell'entusiasmo del campionato vinto l'anno scorso ha come detto lavorato bene in chiave mercato e anche a livello di settore giovanile. Noi ci siamo scontrati nel nostro campionato di Under 19, loro hanno vinto la regular season, siamo arrivati alle loro spalle e hanno fatto veramente bene anche con l'Under 19, hanno dei giocatori veramente in gamba e pronti per giocare nel campionato dei grandi. Tra l'altro con incinzia al balonga ha deciso una doppietta di Balello che credo sia un 2005, per cui non deve stupire l'osservazione fatta a poc'anzi. Veniamo invece alla tua stagione, Niang. Ti ritieni soddisfatto? Hai ottenuto quello che pensavi di poter ottenere da questa esperienza? Sì, è stata un'esperienza formativa, quest'anno comunque grazie al mister, grazie alla squadra sono riuscito a esaltare le mie qualità, quindi sono molto contento. Comunque anche nel collettivo abbiamo fatto, stiamo facendo una buona stagione, quindi speriamo di chiuderla al meglio. Ti abbiamo visto qualche volta da intermedio di centrocampo, qualche volta da esterno, poi di nuovo intermedio, poi di nuovo esterno. Qual è il ruolo che ti calza di più? Ma io onestamente mi trovo bene in tutte e due le posizioni, nel senso che basta giocare, esatto, quella è l'importante, sì. Però dovendo esprimere una preferenza? Diciamo che sì, più da intermedio, sì. Che poi il tuo ruolo naturale in qualche modo è ristato annunciato in questa veste. Sei un 2002 e non ti avrà fatto piacere sapere che l'anno prossimo i 2002 non saranno più considerati under, secondo una decisione che francamente lascia perplessi, perché non si vede una motivazione dietro. Sì, sì, sì. L'anno prossimo purtroppo non saremo più under, però comunque cercheremo di farci... Largo comunque, a prescindere dalla riserva protetta, insomma. Ti piacerebbe restare a Fano? Sì, 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 mi trovo molto bene, sì, mi piacerebbe. Tu sei originario di Cremona, altro territorio, altra città, però insomma la realtà del mare ti si aggrava, ti trovi a tuo agio. Diciamo degli under, l'anno prossimo appunto si scala di un anno, occorrerà impiegare obbligatoriamente un 2003, due 2004 e un 2005, e in questo senso dovrà essere di grande soccorso quell'Under-19 che si sta facendo strada, secondo posto in stagione irregolare, poi i play-off inaugurati sabato al Mancini contro il Bitonto, vittoria per 2-1. Che partita è stata, Romero? È stata una partita molto, molto bella, il primo tempo di marca prettamente pugliese, perché comunque il loro livello era alto. Io ci tengo sempre a precisare che noi ci scontriamo sempre contro ragazzotti più grandi di noi, in quanto anche domenica, anche sabato, il Bitonto schierava 5-11, classe 2004, mentre noi in campo avevamo già dall'inizio 3-2003 e tutti 2005. E questo è un vanto per noi, per la città, per il calcio fanese. Nel secondo tempo loro sono calati un po' fisicamente, siamo venuti fuori noi fisicamente appunto, e le nostre trame sono andate in porto. Vincevamo già 1-0 al fine del primo tempo, loro ci hanno pareggiato su un autogol, comunque anche lì tenendo abbastanza il pallino del gioco. La chiave forse è stata riportarsi subito in vantaggio. Subito in vantaggio, non ci siamo fatti scoraggiare, infatti con un gran bel gol di Mattioli. È un under-19 che ha ottenuto e sta ottenendo risultati probanti, tra l'altro il triangolare aveva avanti, ora si affronteranno Portici e Bitonto, e poi la partita presumibilmente decisiva contro il Portici. Avete qualche indicazione riguardo a questo avversario? Abbiamo qualche indicazione, come sempre noi studiamo i nostri avversari, sappiamo che dovremmo fare un viaggio abbastanza lungo, e che là ci aspetterà un terreno sintetico di vecchia generazione, quindi questo potrebbe sicuramente svantaggiarci, però noi da domani riprendiamo l'allenamento e sotto con la testa a pensare solo al Portici. Chi si dovesse imporre in questo triangolare accederebbe alla fase successiva, quella degli ottavi di finale. Ma chiaramente l'under-19 è funzionale anche alla prima squadra, proprio alla luce dei limiti che sono dettati in chiave regolamentare in Serie D, quali e quanti elementi pensi che abbiano raggiunto quella maturità che possa consentire loro di impattare la prima squadra l'anno prossimo? Beh, questo è difficile dirlo perché i giovani sono labili, come sappiamo, però già Mosconi quest'anno è venuto a prendere qualche elemento, qualcuno si allena solamente, qualcun altro invece penso a Roberti e a Tommasino, il portiere, ha già esordito e ha fatto diverse partite. Quindi penso che sotto questo profilo il prossimo anno la prima squadra dovrà stare abbastanza serena perché comunque questi ragazzi ci mettono il massimo dell'impegno, ci mettono tanta grinta, tanto cuore e sono veramente attaccati alla maglia e all'aquilotto del fanocalcio. Non in tutte le realtà il rapporto fra settore giovanile e prima squadra è così armonico, così organico, mi pare che nell'alma, anche per un indirizzo societario molto preciso, questo rapporto funzioni? Funziona alla grande, io colgo l'occasione, se mi permetti Andrea, anche di ringraziare il presidente russo che si è sbattuto veramente tantissimo per noi, non ci ha fatto mancare mai nulla. I ragazzi della prima squadra vengono sempre a vederci, una decina tra i quali anche e neanche, questo ci fa veramente piacere perché siamo riusciti a creare una bella famiglia, una bella realtà. È strano vedere i ragazzi della prima squadra che in massa vengono a vedere le gesta dei ragazzini, invece qua a Fano si è creata questa cosa molto bella, quindi grazie davvero al presidente per averci dato tutto a disposizione e anche al mister Mosconi che sta lavorando sia per l'una che per l'altra squadra. Per quello che ti è stato dato modo di vedere alle spalle dell'Under-19, ci sono formazioni altrettanto valide nell'ambito di un settore giovanile che ricordiamo è guidato a Pietro Urbinelli? Sì, si sta lavorando molto bene anche in società, il nostro presidente Franco Pantaleoni, quadruvato appunto da Pietro Urbinelli, da Alessandro Crespi, ma da tutto l'entourage, stanno lavorando molto bene perché anche l'Under-17 non ultimo oggi ha un giocatore, Manna, che sta giocando un torneo contro altre nazionali con l'Under-17, con la nazionale appunto dell'Under-17, tra l'altro ha fatto anche gol. Quindi Fano può vivere e sperare bene perché questi ragazzi sono qui, sono alle porte e non attendono altro che avere la possibilità in prima squadra. Per avere un futuro è necessaria continuità a livello societario, in questi giorni è d'attualità il malumore del presidente russo e quindi c'è un clima di incertezza da parte dello spogliatoio, proprio nei giorni scorsi un documento nel quale si è manifestata apertamente la gratitudine e l'apprezzamento per l'impegno del vostro presidente. Sì, il presidente in questa stagione non ci ha mai fatto mancare nulla, è una persona d'oro, comunque è difficile da trovare in queste categorie, e quindi speriamo e comunque vogliamo tenercelo stretto. Grazie a Dusman Nyang, centrocampista dell'Alma di Ventusfano, grazie ad Alberto Rondina, allenatore dell'Under-19, noi vi aspettiamo fra qualche attimo. Chi si porta dietro qualche anno, come me, era abituato a distinguere il ciclismo fra ciclismo su strada, il più largamente praticato, ciclismo su pista e ciclocross. Ora non è più così, non è più così a dire il vero, da qualche tempo in particolare quello che era il ciclocross è diventato altro e si chiama gravel, anche se naturalmente non si tratta di un percorso lineare, ma che andremo in qualche modo a connotare con i nostri ospiti di questa sera, che sono Matteo Broccoli, organizzatore dell'Adriatic Grid Trail. Buonasera e benvenuto. Un saluto a tutti. E Marco Montesi, che ugualmente ha collaborato all'allestimento di questa manifestazione che si è svolta nelle settimane scorse su questo territorio, partiamo proprio da qui. Cos'è stata l'Adriatic Grid Trail in questa seconda edizione, che in qualche modo ha riprodotto i contenuti della prima, ampliandoli ed arricchendoli, e quale impatto ha avuto questa manifestazione su questo territorio, Broccoli? Allora, l'Adriatic Grid Trail, ormai tutti conosciamo con l'acronimo AGT, è stata una manifestazione cicloturistica che ha permesso a tutti i partecipanti di conoscere, scoprire le bellezze del territorio, della nostra bellissima provincia, attraverso strade secondarie prive di traffico. Ecco, quindi una manifestazione gravel, che il gravel non è altro che una forma naturalistica. Ecco, spieghiamo bene, che cos'è il gravel? Il gravel è una forma naturalistica, la più naturalistica possibile del cicloturismo. Quando a noi piace pedalare, magari facendo anche la giusta pausa, per scoprire quella bellezza, perché abbiamo visto una strada, un borgo, stiamo facendo del cicloturismo. Se lo pratichiamo su strade secondarie prive di traffico, ecco che stiamo facendo cicloturismo gravel. E avete radunato appassionati da tutta Italia e non solo? Abbiamo fatto quasi 10 regioni, partecipanti da 10 regioni d'Italia, che hanno scoperto il nostro territorio e che, visto anche l'edizione scorsa dell'anno scorso, torneranno sul territorio, perché spesso ci hanno contattato e sono tornati a vedere, a percorrere le nostre strade, poi 365 giorni all'anno. Scorrono le immagini di questa edizione 2023 dell'Adriatic Green Trail. Montesi, qual è la sensazione che i partecipanti si riportano a casa? La prima cosa che si portano a casa è ovviamente la conoscenza del nostro territorio, la bellezza e anche la possibilità di poter entrare nei borghi che abbiamo percorso. Una trentina, mi pare, complessivamente, distribuiti un po' in tutto il territorio provinciale. Esattamente, abbiamo fatto tre giornate, di cui le tre principali, perché la prima giornata è stata sul percorso che passava per Pesaro, e quindi abbiamo fatto tutto il passaggio del San Bartolo, il bellissimo parco naturale. La seconda giornata, ovviamente, dopo i borghi di Gradara, e quindi principali che riguardano il nostro territorio. La seconda giornata su Urbino, che è stata la giornata più bella, perché è il percorso più lungo e quello più impegnativo, che ci ha portato da Urbino attraverso il parco delle Cesane, anche in percorsi un po' più impegnativi. L'ultima giornata su Fano, che quindi ha consentito di poter toccare con mano la bellezza di queste strade bianche che circondano il nostro territorio. Quindi sicuramente un richiamo anche all'accoglienza che c'è dei nostri borghi, alle particolarità che ci sono anche inogastronomiche, perché abbiamo passato anche delle cantine, in cui abbiamo potuto fare degli assaggi dei vari prodotti locali. Insomma una panoramica completa di quanto può offrire questo territorio. Hanno partecipato in circa 200, ma questa è una cifra che vi siete voluti dare, perché mi pare che uno degli obiettivi sia mantenere uno standard qualitativo alto. Certamente, ci teniamo tanto a coccolare i partecipanti, e sappiamo benissimo che un numero elevato non ti permette poi di garantire un giusto livello qualitativo. Quindi si tratta di manifestazioni senza supporto, in cui gli organizzatori forniscono delle tracce GPX, e quindi ogni partecipante ha giustamente un GPS per poter percorrere questi sentieri. Però abbiamo visto che è molto bello partecipare poi in gruppo, fare dei gruppi, magari pedalare con gli organizzatori, che hanno pensato a tutti i dettagli. In questo modo il partecipante veramente vive l'esperienza, insieme a coloro che l'hanno progettata. E quindi è una valenza strategica, e sicuramente è una qualità che non possiamo rinunciare. Ecco perché metteremo sempre un tetto massimo al numero di partecipanti. In sport comunque impegnativi, perché si tratta di fare fatica, la fatica si sente un po' meno, lo dicono un po' tutti, se il paesaggio stimola. In questo caso credo che l'Adriatic Grill Trail offra quanto di meglio. Assolutamente, è chiaro che ci sono nel percorso delle salite un po' più impegnative, e però ciò non toglie che ci si aspetta, anche si compongono dei vari gruppi, quindi si può aspettare. Sicuramente il gravel non ha un piglio agonistico, competitivo, come può avere un giro in bici su strada, o delle discese fatte sui single track e mountain bike. Quindi chiaramente è più un approccio nella scoperta, nell'avventura, nel conoscere il territorio. Però qui parliamo di sport, un briciolo di competitività si avverte fra questi appassionati. Sì, diciamo che il fenomeno gravel è in evoluzione, e giustamente c'è anche l'aspetto competitivo, visto che anche l'anno scorso sono nate le prime edizioni di campionati addirittura mondiali di gravel, e anche il campionato italiano. L'Italia ha avuto sempre una certa priorità, visto che il campionato mondiale si è tenuto proprio qua nel Veneto, mentre quello italiano assoluto si è tenuto a Reggio Emilia, a Ferrara. Quindi c'è anche l'aspetto competitivo, però diciamo che bisogna sempre premiare l'aspetto della partecipazione, il fatto di gustarsi il territorio. Quindi ci aspettiamo evoluzioni, insomma, nel settore gravel. Qual è l'incidenza nel gravel di atleti che hanno praticato il ciclismo e che poi si sono proiettati su questa nuova dimensione? Diciamo che molti provengono dalla bici su strada, è un'incidenza in tanti ovviamente che almeno i tre quarti sono persone che hanno già fatto ciclismo di strada o mountain bike. Molti sono però persone che, volendo conoscere meglio il territorio, le nostre zone, cominciando con una bicicletta anche semplice da passeggio, può approcciarsi a fare dei percorsi un po' più complessi, un po' più difficili e chiaramente una volta che poi si inizia non si smette più perché chiaramente è molto piacevole. Poi quando si crea il gruppo, ci si incontra al mattino, spesso molto presto. Diciamo che diventa un'abitudine, come tanti sport, che consentono di poter scaricare, di poter vedere il verde, di poter avere il proprio momento di relax e di scarico anche delle varie tensioni che si accumulano durante la settimana. Credo che eserciti un ruolo naturalmente anche l'amore per l'ambiente. Ah, sicuramente, sicuramente. Perché la sosta per la foto, il rispetto anche dell'ambiente, quindi anche non gettare niente, mi raccomando, in queste strade che sono naturalistiche, è un valore a cui crediamo tantissimo. Una manifestazione dell'Adriati Green Trail, che ha anche la finalità di riportare queste persone qui in chiave di turisti, con le loro famiglie. In questo senso, parliamo di famiglie, anche iniziative collaterali che si sono legate a questa Adriati Green Trail. Sì, io partirei dal nome Adriati Green Trail perché il nome, quando abbiamo iniziato a pedalare, ce l'ha dato il territorio. Noi abbiamo un connubio tra mare e collina che è invidiabile. Quindi abbiamo il mare Adriatic, la collina, il green, in strade secondarie, il trail. Però abbiamo visto che è bello poi tornare nelle nostre terre con la famiglia, magari con gli amici. Per fare questo abbiamo allargato quest'anno l'offerta creando degli eventi collaterali. E in grande successo abbiamo organizzato una notturna alla scoperta della Fano Romana, in cui abbiamo avuto diversi partecipanti, anche molte persone da Roma, che sono rimasti stupiti dalla bellezza delle nostre mura, viste magari al tramonto, di notte. Una partecipante straniera, una ragazza tedesca, che è la prima partecipante straniera all'Adriati Green Trail. Ma non l'ultima, mi auguro. Ma non l'ultima. È stato bello quindi pedalare per il centro storico, poi con i bambini, con le famiglie. Abbiamo fatto un ristoro al Bastione Sangallo. È una cosa, insomma, che è difficile trovare in giro una bellezza del genere. Le immagini stanno documentando queste incursioni in alcuni luoghi caratteristici della città. Cicloturismo, gravel. Qui in Italia, in qualche modo, abbiamo raccolto il testimone che ci viene lanciato dai popoli del nord Europa, che al cicloturismo e anche al gravel, di conseguenza, si dedicano da molto più tempo. Stiamo cominciando a colmare questo gap. Sì, stiamo cominciando a prendere il buon esempio di poter anche percorrere le strade, le ciclabili, che inevitabilmente in Italia sono più arretrate rispetto a quelle che possiamo percorrere nel nord Europa. Comunque le famiglie cominciano a percorrere, soprattutto nella nostra zona, già anche al nord, rispetto a noi, in Emilia Romagna, ci sono diversi percorsi che possono consentirci al Grand Tour del Savio, che possono consentire anche alle varie famiglie di poter percorrere delle colonnine che consentono di poter riparare la bicicletta oppure di poter fare dei ristori anche lungo il percorso. Quindi negli ultimi 4-5 anni c'è una forte crescita di questa possibilità di poter fare queste esperienze. Uno dei vantaggi del gravel, credo sia, evitare interferenze con il traffico automobilistico, visto che battete strade secondarie così. Sì, 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 quello è garantito. Poi noi, diciamo anche la nostra peculiarità è quella magari di alzarci anche al mattino presto per poter magari anche vivere meglio poi l'atmosfera, gli spazi, e quindi lì il traffico non ne troviamo assolutamente. Tant'è vero che quando dovevamo pianificare i percorsi, perché alla fine parliamo di un progetto di 350 km sulla nostra provincia, era necessario anche alzarsi presto, andare a mappare questi percorsi per essere sicuri che poi eravamo tutti in sicurezza. Naturalmente per organizzare un evento di questo genere c'è bisogno di collaborazioni, anche a livello istituzionale, avete trovato in questo senso terreno fertili? Abbiamo trovato sin dall'edizione dell'anno scorso terreno aperto. Noi abbiamo iniziato con il Comune di Fano e con la Regione, abbiamo ottenuto subito il patrocinio. Quest'anno, ci teniamo tanto a dirlo, abbiamo avuto un connubio con Pesaro e con Urbino, quindi è una manifestazione che ha avuto una sua trasversalità all'interno del territorio. Sì, siccome riguarda poi i percorsi ben detto Urbino, Pesaro e Fano, abbiamo ottenuto il patrocino da entrambi i Comuni e questo ci fa ben sperare per il prossimo anno. Parliamo di Pesaro 2024. Quando diciamo che Pesaro ha vinto, è più corretto dire che la provincia ha vinto. Anche perché è proprio intenzione dichiarata del Comune di Pesaro di coinvolgere quanto più possibile il resto della provincia. Tant'è vero che con l'assessore Mila della Dora ci siamo subito trovati, parlando anche del prossimo anno, che crediamo tanto in questo progetto perché lo abbiamo già pronto. Se abbiamo la possibilità... Vi siete portati avanti col lavoro. Sì, se abbiamo la possibilità di far conoscere la provincia in un modo naturalistico, in un modo slow, perché non farlo? In bicicletta. Abbiamo il progetto in mano, quindi ce lo teniamo stretto e ci crediamo, insomma. Naturalmente per far crescere un progetto servono sì le idee, ma anche le risorse. Da questo punto di vista vi siete giustamente vantati del fatto che siete riusciti a produrre una manifestazione di questo tipo con fondi limitati. Però avvertite l'esigenza comunque di ampliare il budget per poter offrire una proposta ancora più avvincente? Sì, colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari dalla mia famiglia, i genitori dei nostri organizzatori che ci hanno aiutato e hanno permesso di mantenere un costo bassissimo. Chiaramente chiederemo con maggiore forza aiuto, perché una manifestazione del genere poi ha bisogno di supporto, anche economico, insomma. Dove si può crescere in particolare? Sicuramente nel coinvolgere più persone. Il nostro dovere sarà quello di cercare di fare percorsi sempre più accattivanti e coinvolgere anche con strumenti di media che possiamo utilizzare per poter divulgare questa cosa e principalmente nel poter trovare anche dei contatti per poter far conoscere sicuramente i prodotti e le particolarità che abbiamo sul nostro territorio. Mettiamoci nei panni di chi ci sta ascoltando e magari è interessato alla cosa, si vuole cimentare in questo gravel. Parliamo anche dell'attrezzo, allora quanto costa una bici che possa consentire di sostenere questo tipo di attività in strade secondarie? Qua tranquillizziamo tutti, perché facciamo un attimo una gerarchia delle biciclette, c'è la bici da corsa, la conosciamo tutti, quindi un profilo aerodinamico, ruote sottili, adatte ad andare su terreni lisci, l'asfalto. Abbiamo la mountain bike, quindi un profilo ammortizzato, ruote molto larghe che permettono di vincere le sconnessioni del terreno. Tutto quello che è nel mezzo, tutto quello che è nel mezzo è il gravel. Quindi da distante è una bici che sembra una bici da corsa, ma quando si avvicina cominciamo a vedere un manubrio divaricato che dà stabilità in discesa, delle ruote importanti, ci rendiamo subito conto che è una bicicletta robusta, e i prezzi tranquillizzo tutti, perché io per due anni, e Marco ne è testimone, per due anni ho pedalato con una bicicletta da 300 euro, una city bike da 300 euro, quindi si può iniziare con 300 euro. Poi c'è chiaramente terreni impegnativi, sicurezza, ti spingono ad investire di più, quindi si può arrivare anche a bici anche 5-6 mila euro, insomma. Ognuno ha il suo passo, però un minimo di preparazione viene richiesta. Chiaramente, sì, si inizia con dei tracciati, dei percorsi un po' più semplici, strade secondarie asfaltate, perché no? Poi si può cominciare a vedere di fare qualche percorso anche con della ghiaia, gravel appunto, ghiaia significa in inglese, con dei tracciati un po' più di campagna, più complessi, fino ad arrivare a fare dopo delle salite, ci sono degli strappi anche non semplici. Una cosa in cui bisogna fare attenzione, ovviamente, sono le discese in cui bisogna fare molta attenzione, perché finché si va in salita è solo fatica. Per quello che riguarda le discese, bisogna sempre fare attenzione anche nel bilanciamento del peso del corpo, nel pinzare correttamente i freni per evitare di prendere velocità. Ovviamente, rispetto ai single track che si possono affrontare con le mountain bike, con una bici gravel si fanno dei percorsi più semplici, chiaramente non... c'è la possibilità di poter incontrare dei punti in cui c'è un po' di fango, ma in quei casi, in extremis, si scende e si porta la bicicletta a mano, anche se ci sono dei pendi più impegnativi. Per quello che riguarda con le impostazioni di guida, sicuramente è più comoda, perché è più rialzata rispetto a una mountain bike e ciò consente di poter andare a utilizzare la bicicletta in un modo un po' più comodo e anche per poter fare più chilometri. Ecco, la differenza fondamentale fra una mountain bike e una gravel, io, appunto, come diceva Matteo, posizionandosi nel mezzo, io con la mountain bike difficilmente riesco a fare 80-90 chilometri perché sono impegnativi le discese, comunque i percorsi che si vanno a fare. Con la bicicletta a corsa c'è chi fa tranquillamente 90-100 chilometri, ovviamente perché sono i percorsi più scorrivoli. Con la mountain bike mi piazzo esattamente nel mezzo, quindi posso fare 50-60 chilometri con dislivelli da 1.200-1.500 e torno a casa tranquillo senza essere con la lingua a terra. Non paghi dell'Adriati in Green Trail state mettendo mano molto concretamente ad un nuovo evento. Di che cosa si tratta? Sì, è un nuovo progetto. Allora, l'organizzazione di questo nuovo progetto che è molto ambizioso perché è un campionato italiano CSI, quindi diciamo l'organizzazione è CSI, però ha chiesto a noi una consulenza tecnica per studiare il percorso. Quindi siamo orgogliosi che la provincia sia stata scelta come luogo dove effettuare questo campionato italiano CSI. Quindi noi ci dedichiamo a studiare questo percorso. La data e più o meno le modalità di questo percorso se c'è già l'idea? La data è stata fissata nel 3 settembre domenica, domenica mattina e c'è data diciamo molta libertà di scelta perché un regolamento grave è ancora in via di definizione, siamo andati a spulciare proprio tutti i cavilli del regolamento e parlano di un percorso che può andare da 50 a 200 km ci rendiamo conto che è una forbice abbastanza ampia ampia. Vedendo quello che è stato organizzato in giro di un campionato italiano gravel in pianura noi un attimo ci siamo un attimo rabbrividiti perché la salita fa parte del gravel noi crediamo tanto che la salita la fatica sia collegata poi a quello che ti dà qualcosa in più ed ecco quindi che faremo un percorso magari più corto staremo sui 50-60 km ma ci mettiamo della salita insomma che è il giusto premio insomma sì sì che alimenta in qualche modo il piacere di farla questa fatica grazie a Matteo Broccoli grazie a Marco Montesi organizzatori della Dirati in Green Trail e appunto non solo noi torniamo fra qualche istante in questi anni un po' tutti abbiamo acquisito familiarità con un termine che poi corrisponde ad un oggetto l'oggetto è il drone gli utilizzi sono diversi ma c'è stata negli anni anche un'evoluzione dal punto di vista prettamente sportivo e di questa declinazione ma anche di altro parleremo con Loris Penserini presidente del Drone Racing Fano buonasera e benvenuto buonasera e con Matteo Di Fonzo pilota del Drone Racing Fano buonasera anche a lui buonasera allora che cos'è un drone? spieghiamolo meglio a chi comunque in questi anni ha visto volare sulla propria testa questi oggetti e magari rilanciare da questi oggetti immagini anche molto suggestive allora un drone inizio io un drone è diciamo un concentrato di robotica di tecnologia e c'è elettronica c'è meccanica e c'è un sistema di pilotaggio si dice da remoto quindi il drone viene pilotato stando comodamente adesso non dico troppo comodamente comunque o a sedere o comunque in un posto protetto dà questa sensazione di un'angolatura completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati perché le immagini trasmesse dal drone vengono proiettate in un visore che è assieme fa parte assieme del sistema di pilotaggio remoto quindi il pilota o ha uno schermo sul quale vede quello che il drone riprende con la sua telecamera frontale oppure indossa proprio un visore come nelle nostre gare di drone racing il pilota sta seduto nei box e pilota comodamente il drone in un circuito progettato proprio per calcolare tempi abilità e prontezza di riflessi di come sono strutturate le gare parleremo tra un istante intanto però siccome non ci vogliamo far marcare niente vediamo di esibirlo questo drone Matteo allora qui possiamo vedere uno dei droni che vengono utilizzati per il campionato che corriamo in Italia si tratta di quadricotteri da 5 pollici cosa vuol dire che montano eliche di diametro di raggio di 5 pollici questi sono droni che raggiungono più o meno la velocità tra i 100 150 in magari piste più tecniche fino ad arrivare addirittura a quasi 200 km all'ora nei rettilinei più lunghi il drone ovviamente è compreso di un radiocomando il radiocomando è una di quelle dotazioni assieme agli occhiali che diciamo al pilota rimangono nel senso il drone è in continua evoluzione poiché l'elettronica avanza estremamente rapidamente quindi l'aggiornamento sul drone è continuo mentre invece i radiocomandi e gli occhiali solitamente durano 3, 4, 5 anni e questo è quello che permette al pilota di controllare il drone gli occhiali invece si presentano questi sono un tipo un modello di occhiali in questo modo vengono indossati sul viso qui vediamo le due antenne che ricevono il segnale dal drone per poter pilotare in tempo reale il velivolo in questo caso abbiamo un sistema di ricezione video analogico però adesso stanno uscendo nuove tecnologie come il digitale però nel racing è arrivata un po' più tardi rispetto che magari in altre discipline come il freestyle o il cinematografico perché appunto i tempi di risposta e la latenza video devono essere tali che il pilota possa appunto volare a queste velocità in piste relativamente molto strette perché si tratta di piste il cui giro va tra i 15 e i 25 secondi pilotato 300 e 150 km orari capiamo che comunque fare un percorso molto articolato diventa molto difficile e il sistema deve stare dietro alle capacità del pilota insomma qual è il grado di parentela con l'aereomodellismo di un tempo che viene anche ora praticato sì diciamo gran parte dell'elettronica è similare è ovvio che il drone diciamo passa fin da subito su un discorso di tipo elettrico quindi i motori sono brushless pilotati da batterie e nell'aereomodellismo in generale invece si partiva anche con motori a scoppio per arrivare poi all'elettrico in modo più graduale e in modo più recente il drone essendo uno sviluppo abbastanza recente nasce fin da subito nelle sue parti diciamo tecnologiche che supportano tutto il discorso elettrico c'è lo stato dell'arte come nella formula 1 abbiamo la ricerca per quanto riguarda l'automotive nel drone c'è tutta l'elettronica della robotica moderna e quindi trasmissioni video come diceva Matteo in tempo reale con bassissimi tempi di latenza e adesso anche il digitale si sta spingendo tantissimo su avere tempi di latenza confrontabili e infatti ultimamente stiamo montando tecnologie anche per gestire organizzare una gara in cui i piloti possono arrivare sia con tecnologie digitali sia con tecnologie analogiche essere in grado comunque di poterli accogliere in entrambe le possibilità e la tecnologia sta andando avanti tantissimo infatti i motori brushless sviluppati nel settore del drone racing adesso si sente parlare di aspirapolveri motori brushless o di altri elettrodomestici che utilizzano motori brushless perché consumano meno ma sviluppano una potenza estremamente elevata e quindi diciamo che tutto questo sviluppare e dedicarsi a fare ricerca perché noi facciamo anche ricerca nei nostri diciamo tra i nostri team ci sono piloti come Matteo che sviluppa ricerca sui frame quindi disegna e progetta frame da corsa ma abbiamo anche altri nostri piloti che sono ad esempio sono migrati in Cina per fondare aziende che sviluppano flight controller o altri dispositivi elettronici ecco un aspetto caratteristico di questa specialità è che il pilota non è solo pilota ma il mezzo se lo costruisce infatti il bello di osservare una gara di drone racing per chi è appassionato di Formula 1 multi GP di moto GP diciamo è similare perché abbiamo i box piloti che riparano e sistemano i droni abbiamo comunque un circuito dove i droni si fronteggiano per chi arriva primo o per chi fa il miglior a tempo e ovviamente nel discorso gare di droni abbiamo la terza dimensione che secondo me è più spettacolare perché creano delle traiettorie in 3D che sono veramente complesse da gestire infatti per chi non è del mestiere uno pensa pilotare un drone semplice un drone da corsa ma chi l'ha provato io parlo di piloti di moto GP o piloti di Formula 1 dicono che ci vogliono riflessi molto superiori ecco quali sono le qualità che distinguono un buon pilota di drone e quanto è importante invece la veste di costruttore in questa disciplina allora in primis diciamo quasi che per poter partire una cosa fondamentale sia avere molta pazienza perché comunque se si vuole iniziare costruendo il proprio drone si vuole iniziare andando a studiarsi le varie parti ci vuole molto tempo d'altro canto esistono droni pronti al volo come diceva Loris appunto siamo un paio di ragazzi che in Italia stiamo sviluppando telai da corsa ma addirittura c'è chi oltre a vendere il telaio da solo senza l'elettronica lo vende pronto al volo in questo caso un buon pilota si distingue molto diciamo sono quattro i punti fondamentali per poter diventare un buon pilota la prima cosa è riuscire a trovare confidenza col tracciato quando si vola poiché avere poca confidenza con delle curve con delle figure ti porta a fare molti errori una volta trovata questa confidenza si può iniziare a pulire le proprie traiettorie perché avere una pulizia nelle traiettorie vuol dire consumare meno la batteria vuol dire essere più puliti durante tutta la pista e vuol dire anche andare a sbagliare di meno perché una curva fatta molto velocemente piuttosto che una raccordata è molto più difficile da fare e quindi vuol dire anche quello andare più veloce il terzo punto diventa il chiudere le traiettorie quindi cosa vuol dire se io una curva la faccio pulita però tutto il circuito lo faccio tenendo traiettorie molto larghe anche se molto ben cucite e molto ben fluenti tra di loro noi infatti nei circuiti chiamiamo un circuito che ha un buon flow vuol dire un circuito che fluisce molto bene che si vola molto bene scorrevole esattamente una volta trovato questa fluidità bisogna iniziare a chiudere le traiettorie quindi a passare sempre più vicino ai gate per andare a limare del tempo e qui un buon pilota anzi secondo me la dote migliore di un pilota è proprio riuscire a pulire e a chiudere le traiettorie il più velocemente possibile perché comunque il circuito di gara si viene a sapere il giorno prima la sera del giorno prima delle qualifiche e quando tu arrivi al campo alle 8 alle 8 e mezza di mattina hai mezz'ora per sederti partire e un paio di giri per capire come va il tracciato e come riuscire a migliorarlo infine poi c'è il dare gas l'aprire sul gas perché quella è l'ultima cosa che va fatta perché appunto se sei sporco se non hai traiettorie pulite aprendo il gas è solo un modo disperato per andare più veloce e questo ti porta a fare tantissimi errori ti porta ad avere una guida molto sporca molto tra virgolette pericolosa che alla fine molto spesso va a compromettere la tua gara perché una volta che si cade la gara è chiusa il più delle volte davvero i punti di contatto con MotoGP e Formula 1 sono tanti a Fano è nato un polo di riferimento del drone racing quali dimensioni è assunto negli anni come è nato tutto e quali sono le prospettive allora vantiamo diciamo il fatto di essere stati i primi a livello nazionale ad aver portato questa disciplina sportiva all'interno di un'associazione sportiva dilettantistica del CSI un ente di promozione sportiva del centro sportivo italiano e infatti ringrazio sia il presidente Pagnetti Marco e tutti i collaboratori che ci hanno supportato e hanno creduto in noi fin dall'inizio noi siamo qui dal 2017 e stiamo facendo un gran lavoro all'interno del CSI per farlo riconoscere proprio strutturarlo come una disciplina qualsiasi quindi con una commissione tecnica un suo gruppo di lavoro eccetera eccetera e dal 2017 ci ha ospitato infatti un ringraziamento grosso va anche alla Proloco a Gino Bartolucci alla cooperativa Tre Ponti che ci hanno ospitato lì presso il loro centro sportivo e ci hanno fatto crescere perché ovviamente trovare degli spazi adeguati per poter impiantare un campo volo stabile non è così semplice all'inizio avevamo preso una tensostruttura un pallone dove c'è campi polivalenti di calcetto eccetera poi piano piano siamo andati a finire in uno spazio dietro l'arena BCC che è diventato il nostro campo volo dei Tre Ponti e lì attualmente abbiamo in pianta stabile tutto il circuito che è fatto di materiale comunque resistente che possiamo diciamo manutenere e sistemare quando poi si rovina eccetera però se un ragazzo vuol venire contatta la Drone Racing Fano alla email droneracingfano chiocciolagmail.com ci abbiamo sia il sito web che il canale facebook e e poi si fa un'iscrizione una semplice iscrizione con un tesseramento sempre al CSI abbiamo potuto apprendere dal vostro racconto che si tratta di una disciplina che si nutre di diverse specificità di diverse competenze e a questo riguardo un'attenzione particolare continuate a porla in tutti questi anni al mondo della scuola come si innesta il Drone Racing all'interno delle aule? Allora c'è da dire inizialmente che è stata fondata dal sottoscritto e da un altro docente delle scuole noi siamo docenti delle scuole e io ho fatto anche tanta ricerca nel settore dell'elettronica e della robotica e quindi la passione c'era già e questo nostro diciamo ruolo di formatori e professionisti ha facilitato il fatto di portare il Drone Racing e di portare diciamo quella tecnologia fatta di di droni di elettronica e di meccanica all'interno delle scuole e oggigiorno si parla molto di STEM education dove le STEM sono appunto le materie scientifiche tecnologiche e il drone le racchiude tutte l'elettronica la telecomunicazione l'informatica perché si programmano microcontrollori e la meccanica con il disegno tecnico il disegno 3D e c'è anche molto maker cioè stampanti 3D disegno 3D tipo la canopi bianca che vedete sul drone quello è un disegno fatto da Matteo in 3D e stampato con una stampante 3D quindi riusciamo ad abbracciare tutte le competenze che gli istituti tecnici offrono nelle scuole e abbiamo anche iniziato con l'università perché anche l'università soprattutto la Politecnica delle Marche era molto interessata ed è molto interessata a queste tecnologie perché non si fa solamente educazione semplificata di competenze scolastiche ma si può fare anche ricerca infatti molte iniziative di ricerca e soprattutto adesso che c'è l'esigenza di portare l'intelligenza artificiale all'interno della robotica il drone potrebbe incapsulare benissimo una guida autonoma fatta di intelligenza artificiale e sono campi di ricerca molto interessanti dei quali sono anche io molto interessato e affascinato e c'è stata una grande collaborazione nel tempo dopo abbiamo avuto purtroppo questa pandemia che ha interrotto un po' il discorso ma adesso lo stiamo riprendendo e ci stiamo muovendo la grande al di là dell'approccio scolastico quando un ragazzo si avvicina ad uno sport la famiglia si chiede anche ma quanto costa ecco quanto costa il drone racing beh allora la cosa è che anche qui comunque la pandemia ha fatto veramente tanti danni da questo punto di vista perché più o meno ci si aggirava sul paio di centinaio di euro per un drone completo e top di gamma quindi si trovavano anche kit entry lever per iniziare intorno al centinaio compreso di radiocomando visori e dronino per capire un attimo se questo sport faceva per te insomma ultimamente però i prezzi sono quasi triplicati e questo infatti è uno dei maggiori motivi per cui addirittura tanti piloti non riescono a fare continuativamente tutte le gare di campionato perché comunque la rottura è sempre dietro l'angolo in questo sport e bisogna stare attenti al fatto che poi sicuramente si andrà a spendere e questo appunto non tutti possono permettersi un certo livello di continua diciamo continua spesa una continuità insomma nell'attività per finire chiaramente il drone racing organizza anche eventi si nutre anche di eventi quali sono stati più significativi e quali avete in mente per il futuro allora l'evento principale che ho l'onore e l'onere di presenziare è la Coppa Italia FPV che è stata diciamo creata agli albori dell'avvento del drone racing in Italia quindi stiamo parlando di 4-5 anni fa e attualmente è l'unico evento che raccoglie in sé tantissime regioni d'Italia e tantissime squadre a livello nazionale che concorrono nella competizione e attualmente siamo stati anche invitati dall'aeronautica militare per celebrare il loro centenario che adesso si svolgerà il 16 17 e 18 giugno a pratica di mare all'aeroporto militare e siamo uno dei 5 eventi fondamentali della manifestazione aerea per cui anche un bel orgoglio e una bella responsabilità dover organizzare una delle tappe del nostro campionato presso l'aeronautica militare quindi diciamo che tutti questi piloti che in modo diciamo continuativo cercano di contribuire al successo della nostra competizione hanno anche dimostrato nel tempo negli ultimi due anni di raggiungere livelli internazionali ottimali noi tutti gli anni organizziamo anche una World Cup in collaborazione con l'Aeroclub di Modena e nell'ultimo World Cup c'erano campioni di tante nazioni Giappone Francia non dico in decima posizione dico il primo e il secondo di tutte le nazioni e noi abbiamo avuto un secondo piazzamento il nostro italiano a Charlie Morri Carlo Morace perché poi hanno i nickname i piloti Carlo Morace è arrivato secondo poi abbiamo avuto anche un quinto posto un sesto posto quindi i nostri piloti ci sono insomma un'eccellenza a livello mondiale grazie a Loris Spencerini presidente del Drone Racing Fano grazie a Matteo Difonzo pilota grazie a tutti voi per averci seguito ancora una volta e vi aspettiamo la settimana prossima grazie a tutti